Grazie a tutti. Fabio Iannò, vicepresidente Mudis, una delle maggiori agenzie di rating al mondo, un salernitano tra l'altro di successo. Grazie ad entrambi per la vostra disponibilità. Parterei proprio dal vicepresidente Iannò per una prima valutazione. Mudis ha confermato di recente il rating dell'Italia. Si tratta, come è noto, dell'indicatore che determina l'affidabilità e la sostenibilità del debito pubblico nazionale. Le chiedo, dottore, fino a che punto la pandemia ha inciso sui conti del nostro Paese? Che cosa dice? Ha inciso in maniera sostanziale perché il PIL dell'Italia è calato dell'8,9% l'anno scorso. Quest'anno ci sarà un rimbalzo che noi stimiamo intorno al 3,7% di crescita, ma chiaramente ci vorranno diversi anni prima di tornare ai livelli di precrisi. Allo stesso tempo vogliamo anche trovare delle note positive. Il nostro rating sull'Italia è stabile perché accompagnato a questa sofferenza economica ci sono dei segnali di sviluppo molto importanti per il nostro Paese che sono principalmente legati al supporto che viene dall'Unione Europea, dall'istituzione europea sotto forma del Next Gen U, o comunemente chiamato Recovery Fund, di cui l'Italia è il principale beneficiario in termini assoluti. Si parla di cifre che sono intorno ai 150 miliardi di euro che servono per rilanciare finalmente l'economia, in particolare l'economia del mezzogiorno, perché è al mezzogiorno che gran parte di questi fondi sono destinati. Esattamente, proprio così. Intanto, Luca, le misure varate dal governo, parlando appunto di questa ripartenza dopo questa emergenza sanitaria così devastante per la nostra economia, queste misure e anche queste nuove regole hanno effettivamente dato la possibilità alle aziende di ripartire, insomma, di rimettersi in moto? Diciamo che le aziende ripartono più che per il sostegno dello Stato, per l'avanzare delle aperture, insomma, perché se fosse stato per gli incentivi e il sostegno pubblico, insomma, le aziende avrebbero dovuto chiudere o non avrebbero dovuto aprire. Il contributo fornito alle aziende è stato ed è una riparazione, ma non è sicuramente un rilancio a proposito del piano di rilancio e resilienza, insomma, e bisognerebbe fare qualcosa di più, probabilmente quando arriveranno i fondi del recovery plan ci sarà la possibilità di rilanciare veramente l'economia che deve essere rilanciata partendo dall'infrastrutture, partendo però anche con un animo e uno spirito diverso, con un po' di entusiasmo. Certo, torniamo dal dottore Yannò, chiaramente in questa fase, dottore, si parla di transizione digitale, transizione ecologica, qual è la priorità da seguire, soprattutto anche alla luce del suo prestigioso incarico, come all'estero viene visto il governo Draghi, soprattutto guardando al ruolo che ha il Premier, che ha dato sicuramente una credibilità diversa al nostro paese. Sì, le linee guida che l'Italia deve seguire per uscire da questa stagnazione economica che va avanti ormai da 15 anni sono ben chiare, sono l'innovazione tecnologica, la sburata e la burocratizzazione delle procedure, in particolare per quel che riguarda la pubblica amministrazione, la sostenibilità e gli investimenti in infrastrutture. Il problema vero, almeno finora, era che l'implementazione di queste riforme, le cosiddette riforme strutturali è andata molto a rilento e c'è stato un problema di dialogo con le istituzioni europee relativamente alla credibilità del nostro paese nella capacità e nelle intenzioni a volte di effettuare effettivamente queste riforme strutturali. Adesso con il governo Draghi io credo che ci sia un approccio diverso anche da parte delle istituzioni europee, l'Italia è passata a livello di immagine anche da ultima della classe, dallo studente che non ha tanta voglia di studiare è passato a essere il preferito della maestra, questo perché Draghi è una persona di primaria importanza a livello non solo europeo ma mondiale essendo stato presidente della BCE per tanti anni ed essendo stato uno dei migliori se non il migliore presidente della BCE. Quindi l'Italia finalmente è una figura autorevole che è in grado, anche se necessario, di alzare la voce, di farsi sentire oppure di mediare, quando è il caso di mediare. In Europa io direi che le prospettive sono positive, speriamo che effettivamente questo si traduca in qualcosa di concreto, di positivo per il nostro paese e in particolare per i nostri territori. Certo, una delle priorità del governo Draghi, Luca, è sicuramente la transizione ecologica, questa svolta green, che ricadute potrà avere invece sul territorio regionale, sull'economia della nostra regione? Potrebbe avere enormi ricadute, però la transizione ecologica, a differenza di quella digitale, richiede uno sforzo maggiore in termini culturali. Mentre ormai tutti noi siamo preparati al lavoro a distanza, alla didattica a distanza e quindi siamo abituati ad utilizzare il digital divide, quindi il problema infrastrutturale una volta che sarà colmato consentirà subito di pareggiare la differenza tra il sud e il nord d'Italia ma comunque l'Europa in generale. Il problema sull'aspetto ecologico è diverso perché non basta costruire le piste ciclabili per favorire la mobilità sostenibile, non basta creare questi presupposti se non ci sono anche stimoli che spingano le persone a vivere di più la natura, a rispettare di più la natura. È una questione culturale, è una questione molto importante che dovrebbe partire dalla scuola. Tra l'altro stiamo vedendo le immagini suggestive proprio di una realtà salernitana che ti è molto cara e che hai visitato e probabilmente manca un discorso più di promozione rispetto a queste opportunità. C'è bisogno di promuovere il territorio e di promuovere questo tipo il turismo lento, l'economia lenta, la green economy anche per chi quelle città, in questo caso Salerno, le vive tutti i giorni. Ci sono tantissimi salernitani che non conoscono per esempio il fatto che a Salerno c'è una bastiglia, sanno che c'è il castello Arechi ma non conoscono la bastiglia, non sono mai stati per esempio lì su questo monte che stiamo vedendo che è il monte di San Liberatore. Questo secondo me da un punto di vista del marketing territoriale è un grande deficit, un grande gap da colmare perché non puoi promuovere un territorio se gli stessi cittadini di quel territorio, di quella comunità non lo conoscono e non lo apprezzano abbastanza. Ecco da una realtà così suggestiva torniamo invece ai temi economici con il vicepresidente di Moody's, il dottore Ian Noh, insomma dottore ci sono tante aspettative rispetto al Recovery Fund, ai fondi di Next Generation, si darà priorità al mezzogiorno, l'ha detto anche lei in precedenza, perché questa anche per la nostra classe dirigente è un'occasione da non perdere? È un'occasione da non perdere perché questa è veramente l'ultima occasione che ha l'Italia di tornare tra i grandi, l'alternativa è scivolare tra i paesi che non contano a livello mondiale e l'Italia onestamente credo che meriti un posto di primaria importanza perché siamo un paese, un grande paese, siamo una delle grandi economie del mondo e dobbiamo restare itali. In particolare il mezzogiorno ha bisogno di risollevarsi da questo gap economico, strutturale e anche sociale rispetto al Nord Italia. Il Next Generation EU sotto questo punto di vista è un'occasione straordinaria perché il principio di base dell'allocazione dei fondi europei tra gli Stati membri è proprio quello di riequilibrare le diseguaglianze, quindi ci sono maggiori fondi che vanno nei territori, nelle zone che hanno un alto tasso di soccupazione o che hanno delle problematiche economiche più importanti. Quindi con tutto il potenziale di sviluppo che il mezzogiorno ha in termini di tanti settori chiave che potrebbero fare la nostra economia un'economia di primaria importanza, è un'occasione per la nostra classe dirigente anche locale di prendere visibilità, di prendere anche dei legittimi meriti relativamente all'esecuzione, all'implementazione e alla corretta allocazione di queste risorse. Quindi io veramente vorrei fare un appello non solo a livello centrale ma anche a livello locale affinché la classe politica utilizzi queste risorse in maniera opportuna, rapida e che possa in qualche modo risolvere la nostra economia in maniera definitiva. Ecco, rispetto al Recovery Fund, Luca, quali sono i progetti da valorizzare e da valutare chiaramente per quanto riguarda il nostro territorio? Sono d'accordo con quello che diceva il dottore Yannò, c'è bisogno che la classe politica locale faccia il suo dovere perché noi abbiamo un grande allenatore in questo momento che è Mario Draghi, però poi sono i calciatori che scendono in campo, i calciatori sono i politici locali che a livello locale sanno quelli che sono i bisogni della comunità e del territorio e devono investire laddove ce ne bisogna, in particolare sul turismo. Tu sai che io lavoro molto in Alto Adice dove abbiamo una sede della nostra società e lì già sanno dove verranno assegnati i fondi, per esempio per le terme di Merano che saranno in un certo qual modo riviste e rivisitate grazie ai fondi del Recovery Fund. Insomma, non so quale sia il progetto per la Regione Campania, per il Sud, quali siano i progetti? Bisognerebbe cominciare a pensarci perché altrimenti questi fondi sono stati destinati, allocati, ma non verranno spesi e questo sarebbe un grave danno. Allora, siamo in chiusura. Un'ultima domanda per entrambi. Tornando al Vice Presidente di Moody's, allora, dottore, la pandemia le chiedo che conseguenze lascerà sull'economia dei paesi europei, in particolare chiaramente del nostro paese. I tassi di interesse si mantengono ancora bassi, però qual è la sfida a questo punto per garantire sviluppo e occupazione soprattutto nel mezzogiorno? Sì, la premessa è che la pandemia continua a generare un clima di incertezza molto elevato. Ci sono degli scenari che sono legati ad aspetti, come dire, sanitari, medici, che ancora non hanno una risposta. Quindi è presumibile pensare che la pandemia continuerà ad essere presente nelle nostre vite per i prossimi anni. Quindi non sarà una questione di mesi, ma di anni. Quindi dobbiamo essere preparati a questo, a nuove ondate, a nuovi vaccini e così via, nuove varianti. Quindi l'economia si trova a dover agire in un terreno tortuoso legato a questa incertezza, restrizioni, possibili nuove chiusure e così via. Ciò nonostante ci sono delle opportunità di sviluppo enormi, soprattutto per i territori come quello del mezzogiorno, che ha più gap rispetto ai paesi più avanzati, alle zone economiche più avanzate. Quindi dove c'è sviluppo, c'è crescita economica, c'è occupazione. Pensiamo a tutti, per esempio, i concorsi pubblici che si sono finalmente sbloccati nel mezzogiorno dopo tanti e tanti anni di paralisi. Quindi opportunità di lavoro per i nostri giovani, opportunità per nuove aziende di ricevere finanziamenti in start-up, opportunità per realizzare infrastrutture strategiche. Parlo di linee metropolitane, parlo di porti elettrificati, parlo di autostrade finalmente sostenibili ed efficienti. Quindi, sebbene viviamo in un tema di incertezza, io sono ottimista relativamente al futuro con la premessa che questi fondi non rimangano effettivamente inutilizzati, come diceva il collega Jovine poco fa, ma che vengano allocati in maniera efficiente il più presto possibile. Per chiudere, Luca, in un minuto, come guardare al futuro? C'è preoccupazione per l'aumento dei prezzi? Come dovranno reagire le aziende? Qual è la sfida del mondo dell'impresa guardando avanti? Per alcune aziende potrebbe essere un fattore positivo l'aumento dei prezzi perché possono aumentare i ricavi. Sono le banche, per esempio, che con l'aumento dei prezzi e dell'inflazione potrebbero tornare a fare business in maniera più ricca. Sicuramente questo potrebbe essere dannoso per i consumatori, ma l'economia trova sempre l'equilibrio, anche quando cambiano delle variabili, quindi se dovessero cambiare i prezzi come probabilmente cambieranno, anche se però si parla di effetti temporanei. La verità è che per poter andare in una direzione di sviluppo, di sviluppo sostenibile, c'è bisogno di lavorare su aspetti culturali, perché conta molto la cultura e conta molto l'etica e i valori aziendali. La politica parla soltanto di soldi, di finanza, di interessi, oggi si parla di vaccinazione, ma non si parla dei valori. Se vogliamo fare un riferimento, una differenza tra una best practice che abbiamo in Italia, che è il Trentino Alto Adige e una parte del sud, potremmo dire anche la campagna, lì si rispettano le regole. In Trentino Alto Adige lì l'economia funziona, lì c'è l'occupazione, lì si fanno figli, nascono famiglie, da noi invece le regole non si rispettano e abbiamo un territorio che è degradato e non è valorizzato abbastanza. Quindi questo vuol dire che nonostante abbiamo le risorse per poter anche noi fare economia e avere ricchezza. La differenza è culturale e valoriale, bisogna lavorare anche su questo, non soltanto sugli aspetti economici. Il recovery fund è importantissimo, ma c'è anche dell'altro da tenere nel conto. Certo, serve una svolta soprattutto sul fronte della mentalità, mi pare di capire. Allora abbiamo concluso, io ringrazio in maniera particolare il vicepresidente dei Moody's collegato con noi via Skype, il dottor Fabio Iannò per la sua partecipazione a questa nostra rubrica, grazie a Luca Iovine, naturalmente il regio è per noi Aldo Fenizia, grazie naturalmente a quanti ci hanno seguito. Arrivederci.